Lanterna Verde ha sconfitto Cita, la donna Gepardo, ricordatevi che siamo sempre ad Atlantide, il nostro atlantidese Aquaman sta avendo la peggio contro i robot di Breniak, ma Lanterna viene a soccorrerlo la sua mitragliatrice lanterniana, Aquaman è fortissimo il suo tridente, ricordatevi che ne abbiamo fatta di strada in questa storia di Injustice 2. Eccoci, e ora chi arriva adesso? Ancora Bane, basta con questo Bane. Non fiuso capelli questo Bane. Vi saluto, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale.